466 tra studenti e professionisti italiani e stranieri. Ecco i protagonisti del concorso internazionale di idee progettare e realizzare per tutti, tenutosi presso la nuova fiera di Milano, organizzato dall'Associazione Onlus, lo Spirito di Stella e il gruppo Autogrill. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, patrocinata dall'Associazione per il Disegno Industriale e Design for All Italia, è aperta a professionisti nel campo dell'architettura, della progettazione, del design e a studenti di architettura, ingegneria e disegno industriale. L'obiettivo comune dei partecipanti al concorso di quest'anno è stato ripensare il layout dell'area di ristorazione self-service, modalità free flow all'interno degli Autogrill. Autogrill l'ha conosciuto due anni fa una persona straordinaria, Andrea Stella, che ci ha in qualche modo aperto gli occhi su un modo diverso di lavorare, di progettare i nostri punti di vendita, i nostri locali in autostrada, in aeroporto, in sezione coroviaria, anziché progettare solamente per esigenze di tipo funzionale o per elementi estetici, poi applicare i vincoli, per esempio i vincoli normativi legati alla mobilità dei disabili. Lui ci ha fatto capire che, tenendo conto subito di tutte le esigenze, il normo dotato e il disabile, il bambino e la persona adulta, l'anziano e la donna incinta, progettare in un colpo solo per tutte queste persone che hanno necessità diverse, avrebbe fatto sì che avremmo risparmiato del tempo, quindi del denaro, e avremmo anche progettato qualcosa di più buono. Quindi abbiamo sposato la sua filosofia, che non è soltanto un bel messaggio etico, è anche un miglior risultato economico. Quest'anno ci sono molti progetti molto interessanti, ma in realtà il concorso di quest'anno aveva caratteristiche diverse. Non è stato progettato un oggetto, ma un mondo, un universo, il mondo del ristorante è composto di tanti oggetti diversi. Forse quest'anno ci tocca lavorare un po' di più a cogliere vari spunti progettuali di architetti e di studenti che hanno progettato delle cose diverse e forse fare un po' un lavoro di puzzle per trovare la giusta sintesi tra le cose belle che abbiamo visto e la necessità poi dopo di avere un ristorante che sia funzionale accogliente per i nostri clienti. Abbiamo, a distanza di pochi mesi dalla premiazione che abbiamo avuto qui in questa stanza un anno fa, abbiamo avuto il battesimo del primo locale che ospita il Bancone Bar, progettato da una giovane studentessa dell'Università di Chiaratura di Firenze, che l'anno scorso vinse il primo premio di questo concorso. Una grande soddisfazione per noi e un sogno realizzato per queste studentesse. Lo scopo del concorso di idee è quello di avvicinare i progettisti ai principi di Design for All, la filosofia progettuale che ha ispirato Andrea Stella, fondatore della stessa associazione Onlus, lo spirito di Stella. Il giovane velista Vicentino, dopo essere rimasto vittima di un'inspiegabile aggressione alcuni mesi dopo l'episodio, decide di riprendere il mare, ma scopre che al mondo non esistono imbarcazioni in grado di ospitare, senza distinzioni, persone normodotate e persone disabili. Con il sostegno della famiglia realizza dunque il primo catamarano al mondo costruito senza barriere architettoniche, che consente di vivere la barca e il mare senza distinzioni sia alle persone disabili che a quelle normodotate. Presente alla quarta edizione dell'evento internazionale, oltre ad Andrea Stella e tutti i membri della giuria, il campione rosso-nero Clarence Sidorf, che ha voluto contribuire con la propria immagine al successo dell'iniziativa per la sua particolare sensibilità nei confronti delle tematiche che riguardano il terzo settore. C'è una gravissima responsabilità sociale legata a questa iniziativa, grande innovazione, coinvolgimento dei giovani creativi che possono realizzare il loro sogno e diventare veramente un punto, diciamo, di riferimento per tante altre aziende, anche altri mondi, tipo quello dello sport, applicare questa idea di avere una struttura accessibile per tutti. Per fortuna ho vissuto tantissimi anni in Italia e conosco bene l'autogrill e per quello sono molto fiero di poter partecipare a questa iniziativa. Due le categorie in gara, una generale e riservata ai progettisti ed una dedicata in particolare agli studenti, 202 progetti, 116 realizzati da studenti e 86 redatti da professionisti, 12 elaborati che si sono aggiudicati il monte premi complessivo di 61.500 euro. La Sicilia ha trionfato tra i progetti premiati con ben 4 premi su 12 in palio. Forte inoltre è stata la partecipazione a livello internazionale da parte di studenti provenienti da Canada, Francia, Spagna, Grecia e Romania. La giuria ha visto anche la partecipazione di alcune personalità, tra cui l'architetto Daniela Volpi, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Milano, della dottoressa Serena Campana, direttore marketing di Autogrill Spa e del dottor Gabriele Milani, direttore delle vendite di Autogrill. Vincitore del concorso è stato il progettista milanese Federico Castelmare per quanto riguarda la categoria generale dei progettisti. Tra gli studenti delle università che hanno partecipato al concorso una menzione speciale è andata alla Facoltà di Architettura di Palermo che si è aggiudicata il primo e il secondo posto. Uniche tra gli studenti a rientrare nella classifica generale e che dunque avranno la soddisfazione di vedere realizzati i loro progetti, un trio di studentesse siciliane della Facoltà di Architettura di Palermo che si sono aggiudicate invece il terzo posto sul podio. In conclusione i risultati ottenuti dalla quarta edizione del concorso di idee hanno dimostrato che nella progettazione l'attenzione alla disabilità rappresenta un punto di forza e non un limite. E tutto ciò ci porta a capire e ad esplorare le nuove frontiere del servizio per migliorare la qualità di ciò che si fa per progettare e realizzare per tutti.